Oggi il Ministro Speranza firma il decreto con il quale da lunedì l'Abruzzo diventa la quarta regione in Italia a diventare zona bianca. È un risultato importante, la pandemia la stiamo combattendo e si può dire ormai dietro le nostre spalle, il peggio è passato, anche se non bisogna mai abbassare la guardia e continuare a usare tutte le precauzioni. Però lunedì si riapre, si riparte, si riapre in anticipo rispetto al programma nazionale e a tante altre regioni che hanno ancora una situazione o un'incidenza peggiore di quella dell'Abruzzo. Abruzzo che è tra le primissime regioni in Italia per numero di vaccinati rispetto alla popolazione residente. Abbiamo iniziato a vaccinare anche i dodicenni, in particolare a Penna Piedimonte, insieme alla vaccinazione massiva dei piccoli centri, dei piccoli e piccolissimi comuni che sta procedendo dopo i dieci comuni dell'Aguilano, si è cominciato nella provincia di Chieti e in questo caso abbiamo vaccinato tutta la popolazione dai dodici anni in su, tutti quelli che potevano e dovevano essere vaccinati. Quindi ci sono segnali positivi, confortanti. L'appello a tutti i cittadini è quello di continuare a comportarsi così, ad essere attenti, seri e rigorosi nel rispetto delle misure, ma anche nutrire quel giusto ottimismo e quella giusta soddisfazione per aver saputo affrontare dei sacrifici e aver dimostrato capacità di resilienza, di ripartenza, di ripresa, che è quello di cui adesso abbiamo molto bisogno.